Ed eccoci qua, abbiamo cambiato gli ospiti, abbiamo salutato gli amici del gruppo sportivo Marinelli e adesso ci avviciniamo a quello che è un momento per me importante nel senso che quando si parla di calcio è sempre bello, è sempre piacevole anche perché il calcio è lo sport, senza nulla togliere gli altri, quello più seguito è quello che ci entusiasma di più e io a proposito di entusiasmo, ieri anche se già sono stato battezzato mi sono entusiasmato a seguire battezzato nel senso sgridato dai massimi esponenti perché io ieri ho seguito una bella partita, una vertovese abile a contrastare questo foresto sparso che non era l'ultima squadra arrivata, lo dobbiamo dire, un foresto sparso che a parte forse in maniera un paio di volte casuale non ha quasi mai tirato in porta, questo vuol dire che comunque i ragazzi hanno fatto il loro dovere. A parlarci di questa partita, a parlarci del campionato, delle speranze la storia di questa vertovese, vertovese che soltanto dunque siamo a ottobre facciamo due mesi e mezzo fa, sembrava direttamente destinata a scomparire da quella che era la storia perlomeno, la storia diciamo tra virgolette importante del calcio provinciale invece tutto è partito con il verso giusto, l'impegno di queste persone ed altre persone naturalmente gli sponsor ha fatto sì che la squadra non solo potesse ripartire dal campionato conquistato sul campo vale a dire la promozione ma addirittura con delle ambizioni. Ne parleremo col direttore generale Gianandrea Bortolotti, buonasera Bortolotti, grazie all'invito, Alessandro, eccolo inquadrato, Alessandro Inberti, allenatore, con Alessandro abbiamo anche dei rapporti, dico io da amicizia anche se lui mi guarda sempre male quando dico questo perché poi lo costringo a darmi delle confidenze io in qualità di pseudo giornalista magari le uso in maniera errata. E poi Marco Signori, con Marco invece abbiamo dialogato ieri, abbiamo dialogato da tanti anni che ci conosciamo quando lui giocava nell'Albinese come portiere e adesso è l'allenatore responsabile dei portieri, il preparatore per meglio dire dei portieri della Vertovese. Dietro il responsabile del settore giovanile, mi fa piacere trovarlo sempre più impegnato il signore Elio Pezzoli e poi andiamo a scoprire l'autore di un gol 2-0 che non passerà quello realizzato ieri alla storia come uno dei più belli perché il portiere ci ha messo del suo però sicuramente Giovanni ci ha messo tanta voglia di realizzare Giovanni Motta, ex giocatore professionista convertito al bene delle squadre della nostra valle, mi fa immensamente piacere. Buonasera Lorenzo. E poi invece abbiamo Giorgio Alberti eccolo qua con Giorgio insomma il grande trascinatore della vittoria dello scorso campionato della Vertovese nel campionato di prima e forse a lui ma oserei dire a tutto il gruppo per carità perché sarebbe ingiusto dire soltanto a lui e si deve la vittoria, quella splendida cavalcata del 2012-2013 che avrebbe tanto fatto piacere al Presidente, io me lo ricorderò sempre, Antonio Maffeis. Allora ho detto nel preambolo ho detto insomma mi piacerebbe velocissimamente raccontare ancora le vicissitudini estive e chi meglio di Gianandrea Bortolotti ce lo può fare. Questa Vertovese è destinata a scomparire che invece quasi come per magia è nata una bellissima realtà e sono anche convinto perché ho visto l'entusiasmo e ieri poi ne parleremo il pubblico che c'era ma soprattutto il pubblico da chi era formato questo pubblico ma ho avuto la sensazione che non sarà una meteora al di là di come sarà questo campionato vuol dire che si sta costruendo forse il futuro di questa comunque storica società. Il futuro bisognerà vederlo perché lo sai meglio di me, oggi il problema economico è quello principale diciamo al di là di quello che è successo che non voglio star qua ancora a ripetere il perché comunque la cosa sicura è che all'11 luglio è stata costituita la società perciò dover fare un po' tutto di fretta un po' così improvvisato diciamo sotto certi aspetti probabilmente lo stiamo un po' pagando questo è una cosa che mi sto rendendo conto e mi assumo parecchie colpe di questa cosa e mi sono trovato a dover consegnare a Alessandro una squadra un po' magari non scarsa però magari sotto certi aspetti qualche volta un po' presuntuosa da parte di certi giocatori E quello mi dà molto fastidio Poi loro ripeto sempre, io sono molto critico, io mi prendo le colpe voglio che i ragazzi che vengano siano delle persone e poi diventeranno dei giocatori che non dobbiamo scoprire noi La Vertovese è composta oggi come oggi da persone serie che tramite Alessandro siamo riusciti a trovare per poter iscriverci a questo campionato Siamo partiti, c'è un entusiasmo dietro che io tante volte mi meraviglio perché dico Cammini sono tutti contenti, l'unico non contento sono io Ma non perché non sono contento, perché magari io mi soffermo su delle cose che uno che magari viene dal di fuori non ci fa caso Questo è un po' la Vertovese, è vero quello che dici tu Ieri ho visto ancora una volta sugli spalti un casino di persone E questo sinceramente è una delle cose che mi fa più piacere di tutti perché vuol dire che qualcosa si è creato Già l'anno scorso siamo partiti così, siamo partiti per fare un buon campionato e poi ci siamo trovati lì naturalmente poi quando sei lì è giusto non mollare niente E vedevi che la gente partecipava Quest'anno sorpresa di tutti l'Avertovese si è iscritta e si è trovata di fronte Abbiamo 40-50 cartelloni, perciò parti da quel presupposto lì Però ieri ho visto ancora, penso che ci siano state almeno 200 persone Credo di sì, ma indipendentemente senza nulla togliere al tifoso che viene perché si sente orgoglioso di avere la propria squadra in campionato per la prima volta in campionato di promozione Ma ieri ho visto, lasciamelo dire, anche personaggi che sappiamo benissimo tutti che ci hanno messo tante cose, insomma non ultimo la parte economica e magari sono anche persone che del calcio non sapevano mica nulla però ieri le abbiamo viste su in tribuna e soprattutto ti fa regioire per questa bella partita che poi non sarà stata eccezionale ma a me comunque è piaciuta e soprattutto poi le abbiamo ritrovati giù Questo vuol dire che forse si sta creando quell'atmosfera giusta al di là delle difficoltà perché tu hai ragione quando dici poi alla fin fine chi scuce i danè insomma alla fin fine devono fare i conti e i conti devono quadrare indipendentemente dal campionato, bello o non bello è chiaro che se è bello tutto viene mitigato cioè invece il campionato è brutto allora ci resta anche la delusione però sono sicuro che sia sulla strada giusta certo bisognerà lavorare ancora e bisognerà soprattutto allargare magari anche ad altra gente possibile che può dare un piccolo grande contributo per far sì che la storia di questa grande squadra possa continuare però tecnicamente perché Gianandrea Bortolotti è vero il direttore generale però la squadra l'ha plasmata lui assieme ad Alessandro non puoi dirmi che a parte i caratteri presuntuosi o meno che poi un po' lo siamo tutti magari perché questo fa parte inconsciamente del carattere di una persona però io non ho visto una brutta squadra tu dici ma questi qua sicuramente quello che abbiamo visto ieri per me è una squadra dalla metà classifica in su non lo so guarda se mi avessero detto di firmare per dieci punti ne avrei firmato per cinque con quello che ho visto durante l'anno abbiamo dieci punti e partiamo da lì poi non voglio più entrare perché non voglio fare più polemiche va bene allora facciamo così Gianandrea passiamo il pallino ad Alessandro Alessandro Inberti sicuramente lui ci dirà ma soprattutto perché mi ha appena detto guarda che mi devi far avere il DVD della partita perché ho qualcosa da dire e soprattutto da mostrare e non le cose belle perché quelle chiaramente non si mostrano quasi mai se no poi magari qualcuno sale in alto mostrare le cose sbagliate secondo te dove ha sbagliato se ha sbagliato la squadra ieri? allora volevamo prima iniziare per ringraziare anche pubblicamente che non l'ho mai fatto coloro i quali hanno permesso che questa vertovese continuasse questa esperienza quindi ringrazio gli amici, gli amici degli amici ringrazio la signora Rina e il vicepresidente Cuminetti oltre al presidente Amabile Guerini che hanno permesso soprattutto anche loro questa avventura e qui parlo non da allenatore ma da mezzo dirigente che è una situazione che mi pesa un pochettino che è la prima volta che mi capita di dover fare l'allenatore ma anche un po' il dirigente quindi volevo solamente mettere un puntino su questa cosa io posso invece aggiungere scusa che stai facendo venire tutte le due cose questo vuol dire che... però è un ruolo un po' l'inglese che non è che mi calzi proprio a pennello insomma diventa anche difficile fare tutte e due le cose secondo me dopo tornando alla domanda che mi hai fatto sicuramente allora io dico sempre che ogni persona vede una partita in funzione del ruolo che ha io la guardo e la vedo da allenatore Bortolotti la vede da dirigente, da direttore sportivo che ha costruito una squadra e vede delle lacune in questa squadra che sicuramente sapeva che qualcosa mancava o era da correggere i tempi sono stati ristretti quindi secondo me è stato no perché qui è stato ancora bravo da allestire una squadra in una settimana e penso che sia molto difficile eppure c'è riuscito e il tifoso la vede da tifoso il presidente e i dirigenti la vedono da dirigente quindi ogni persona la vede in funzione del ruolo che ha io da allenatore, i ragazzi lo sanno sono qua queste gare che abbiamo fatto partendo dalle prime amichevoli fino all'ultima partita di campionato sicuramente non sono soddisfatto delle prestazioni al 100% perché ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare cose anche importanti secondo me io credo, tu hai perfettamente ragione anche perché il campionato è lungo se ci si rilassa dopo 6 partite e 10 punti vuol dire commettere l'errore più grande anche perché a parte 3 o 4 giocatori Alberti, Motta, Danilo quando entra che fa la differenza Carsana e così via stesso Vitali che ieri per me ha giocato anche lui abbastanza bene voglio dire sono anche una banda di giovanotti sono dentro dei ragazzini 93, 92, 93, 94, 95 voglio dire sono ragazzi che devono acquisire la giusta esperienza per loro è un banco di prova importante e questo hanno la consapevolezza chiaro che per quanto ti riguarda deve esserci lo stimolo a caricarli sempre di più e quello sicuramente anche perché sono ragazzi che perlomeno si applicano poi certe volte può darsi che sia io che non mi spiego cioè non sono proprio capace di spiegare le cose non lo so, questo bisognava chiederlo a loro Allora hai smesso di giocare un po' di anni fa insomma sei, hai calcato campi importanti perché del resto come del resto ha fatto Giovanni tutta la sua carriera insomma campi professionistici perché hai sempre fatto il professionista per tanti anni e adesso fai l'allenatore tornando indietro potendolo fare l'avresti fatto prima magari l'allenatore magari con qualche diciamo così chance in più per proseguire o sicuramente hai sempre preferito fare prima il calciatore dell'allenatore io ho fatto il corso abbastanza presto da quando giocavo ancora qui al vino l'albinese quindi era il 98 quindi parecchi anni ero abbastanza giovane dopodiché ho continuato a giocare e mi son detto che giocavo fin quando mi divertivo ho smesso quando non mi divertivo più quando iniziavano ad esserci problemi anche di allenamento dove si faceva fatica a recuperare però soprattutto quando ho smesso di divertirmi quindi ritengo che il calcio per chi lo pratica anche a livello professionistico sia prima di tutto un divertimento poi logicamente quando ci sono problemi tra virgolette delle volte si parla al martedì quando si rientra dopo una sconfitta ma anche dopo una vittoria i giocatori lo sanno diranno ostimo questo allenatore qua che rompiscatole si lamenta sempre il direttore sportivo idem siamo sempre arrabbiati sempre tra virgolette perché però pure anche l'anno scorso il cambiamento del campionato momenti di tensione ci sono sempre stati ma è così il mondo del calcio se si vuole vincere qualcosa è così sì è vero sono d'accordo rilassarsi è l'errore più grosso però ripeto ha detto Andrea poco fa ha detto se mi avessero fatto firmare dopo sei partite e dici punti chissà cosa avrei fatto insomma perciò vuol dire che anche i ragazzini probabilmente ce ne sono alcuni capaci stanno prendendo a dovere la lezione ed è questo l'augurio l'augurio più grande un settore e credo forse magari tu mi aiuterai a capire se è così e poi lo chiederemo al diretto interessato magari un pochettino debole della squadra è la difesa anche ieri sembrava che per la prima volta potesse portare a casa lo zero in tabella è arrivato il rigore al 47esimo ci può stare per carità perché se la partiva finiva 3 a 0 nessuno poteva discutere sul risultato si è vinto lo stesso 2 a 1 però ecco forse manca un po' di convinzione lì dietro il 6 vuol dire che il gol l'abbiamo preso che lo prendi al 90esimo lo prendi al primo vuol dire che l'hai preso allora la forza anche della squadra l'anno scorso era quella di prendere pochi gol io ritengo che se si vuole far bene e questo lo dimostrano le classifiche se tu guardi le classifiche di qualsiasi categoria dalla terza alla serie A chi vuole essere lì davanti deve prendere pochi gol prima di tutto quindi deve essere organizzato deve essere più che organizzato oltre che organizzato deve essere attento fino alla fine se non vuoi prendere gol deve avere una squadra attenta e concentrata per non 90 minuti fin quando l'albitro fischia diceva il famoso Bosco quindi bisogna essere concentrati fino al 95esimo fin quando l'albitro fischia e questa è una qualità che deve avere una squadra devi essere concentrato fino alla fine probabilmente questa cosa qua a noi ci manca ci manca manca la Vertuvese questa cosa qua e fra poco parleremo con Marco Signori questa Vertuvese che si è inventata quasi o perlomeno il portiere di ruolo se l'è trovato così come quando nasce un bel fungo insomma quasi all'improvviso è nato questo ragazzo che anche ieri ha fatto in pieno il suo dovere ci fa sempre un po' stare in apprezzione perché è inesperto perché il suo ruolo non era quello del portiere però abbiamo scoperto ha scoperto Marco lo sta allenando davvero bene è un ragazzo che visto che è giovanissimo potrà dire ancora la sua in questo ruolo chiaramente ne parleremo fra poco dopo la pubblicità state lì di nuovo di nuovo in diretta di nuovo in studio amici appassionati di calcio dobbiamo dire in questa seconda parte si parla essenzialmente di quello e si parla lo si fa con i massimi esponenti di questa Vertuvese che sta riservando dopo il grande esplode l'anno scorso ancora bellissime sensazioni bellissime emozioni quest'anno si fa un po' più sul serio il campionato è anche molto più impegnativo perché si sta parlando di promozione qui ci sono dei giocatori emergenti che mi auguro non solo quelli della Vertuvese i giovani ma anche quelli di altre squadre che presto vedremo poter continuare insomma ragazzi di 18, 19, 20 anni che hanno un futuro davanti ci devono solo credere un futuro lo possono avere tutti lo possono inventare tutti come l'ha inventato anche il portiere Luca Gualdi lo diciamo e parliamo con Marco Signori che lo allena questo ragazzo che sta facendo davvero in pieno il suo dovere e che soltanto un anno fa probabilmente pensava alla marcatura del proprio uomo in qualità di difensore mai più a fare il portiere invece Marco cos'è successo? Oh niente io sono arrivato in campionato già avviato l'anno scorso e avevamo due portieri questo era il giovane e piano piano abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi a un certo punto è passato titolare soprattutto nello sprint finale dal campionato e ha fatto anche abbastanza bene poi alla fine dell'anno con Gianandrea abbiamo fatto una valutazione in base anche giustamente lui e questo lo ringrazio per la fiducia che ha nei miei confronti ho fatto una valutazione mi ha detto se tu stai su vieni con noi stai qua in questa società noi possiamo giocare col portiere giovane se no prendo altre iniziative io mi trovavo bene con Gianandrea dato che è stato anche uno dei quelli che è venuto a chiamarmi quando ho iniziato l'avventura col Cene sono stato uno dei primi ad andare lì in questa società poi abbiamo fatto tutta la scalata fino al campionato di serie D e anche questa volta ho accettato volentieri questa loro proposta società seria gente che vuole far bene poi ci sono questi ragazzi che ti danno soddisfazione hanno bisogno di lavorare come Guardi l'anno scorso sono giocatori che non hanno mai avuto un preparatore specifico del portiere e trovarsi a giocare in promozione a classe 94 non è facile lo sta facendo bene deve migliorare tanto come anche l'altro Sonzoni tutte e due nel 94 però piano piano si stanno togliendo le soddisfazioni poi il giovane bisogna ammettere se può capitare anche l'errore un po' la sua inesperienza è un fattore caratteriale anche perché pronti via a entrare in un campionato come ha detto le difficoltà di Gianandrea prima un campionato dove la squadra fatta all'ultimo momento sicuramente l'obiettivo di salvarsi per un giovane del 94 portiere mai avuto questa esperienza mai giocato a parte le ultime 6 o 7 partite l'anno scorso non è facile però piano piano lavorando un po' anche sul discorso caratteriale la fiducia che danno anche i compagni piano piano sta crescendo e sta facendo bene tu mi insegni scusa Marco che non diciamo così che non nulla nasce dal caso probabilmente questo nel suo DNA magari qualcosina in più come in questo ruolo ce l'aveva però è anche altrettanto vero che probabilmente c'è una convinzione dentro di lui dentro questo ragazzo di poter far bene perché lo vediamo sicuro nelle uscite lo vediamo tempestivo poi gli errori li ha fatti per carità ma chi è che non li fa perciò vuol dire che forse anche come testa questo ragazzo sta maturando e sta certamente sta portando avanti quello che è un ruolo fino a poco tempo fa non suo tu che hai calcato certi campi che hai vissuto tutta la vita da giocatore proprio come portiere ecco quanto conta la convinzione la testa di poter dire questo mi tira il rigore sono sicuro che glielo paro e magari poi alla fine glielo para no non è quanto la convinzione della partita la convinzione è nell'allenamento secondo me io da quando giocavo o da quando ho iniziato a allenare per me quando dicono le qualità migliori del portiere cos'è secondo me il fattore caratteriale la voglia di sacrificio la voglia di imparare se hai queste cose i difetti le togli se invece sei bravo che hai anche dei difetti se non hai questa voglia questo è spirito di sacrificio attenzione per apprendere per imparare non li migliorerai mai secondo me una delle qualità migliori che deve avere un portiere è questa la voglia di imparare di soffrire di sacrifici e allora si può lavorare sotto io cerco soprattutto portieri che hanno queste caratteristiche al di là che fisiche ricordando e tu me lo chiaramente me lo spieghi che è un ruolo molto delicato insomma perché se la partita che becchi due gol e la tua squadra perde per 2 a 1 le responsabilità sono tue non è che vanno ricercate in tutto il gruppo voglio dire consapevolezza che il ruolo è molto delicato anche psicologicamente fare il portiere vuol dire avere anche un carattere un po' diverso dagli altri non è facile perché sei lì da solo ti devi gestire da solo sbagli in uscita sbagli in qualcosa sei da solo ti devi imboccare le maniche da solo però sicuramente ci sono anche questi problemi se sbagli fai un errore perdi la partita però ci sono anche delle soddisfazioni che il portiere può fare anche vincere da solo la partita salvando un risultato facendo una parata c'è i pro e i contro però è un bel ruolo allora uso ancora la tua esperienza in questo ruolo perché io sono e certamente la maggior parte di chi mi sta ascoltando mi accuserà forse perché insomma Buffon e Juventino non ce l'ho con Buffon però non ha più riflessi di una volta dai io l'ho visto anche a Nazionale a fare delle uscite Marco che forse non so si potrebbe sarà ancora bravo perché è ancora un gatto si tuffa di qua di là però ogni tanto un po' da farfalle e aciapa anche lui stiamo parlando di uno dei portieri più forti del mondo va bene ancora sono convinto che è ancora il più forte del mondo è uno dei più forti del mondo dunque stiamo parlando è che stiamo parlando dei portieri però secondo me giustamente quando ha perso quello che dicevo io quella quella sacrificio quella cattiveria ha perso un po' di queste cose che ti portano automaticamente sarà per l'età sarà per per mare i successi che ha vinto ha vinto tutto mare è normale se tu come molli un attimino questo spirito di sacrificio questa cattiveria agonistica questa mentalità automaticamente poco molli ma penso che lo può possono dire anche un giocatore come tu perdi appena appena questa cioè anche solo avere l'esperienza ma non serve devi avere sempre queste caratteristiche grazie Marco per me un po' sarà anche per la sua signora che non passa inosservata diciamo così che ogni tanto gli fa perdere l'equilibrio può capitare dai una battuta chiaramente a proposito del settore giovanile di questa vertovese questo ragazzo che fa il portiere ma anche tutti gli altri dietro abbiamo quel signore là che sta un po' in disparte l'abbiamo visto anche alla presentazione di poche parole io gli ho pezzò di tanti fatti raccontavo un aneddoto prima Alessandro Inberti diceva ogni tanto si va a vedere qualche giovane proprio su indicazioni di Elio Pezzoli uno scopritore di talenti di casa nostra dai no no a me piace fare il settore giovanile ogni tanto avere un po' di partite ho visto sto ragazzo che secondo me era bravo stiamo parlando di Cuba gli esperti sono loro quindi si dice Cuba o Cuba a proposito Cuba 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 l'ho sempre chiamato con l'accento per non confonderlo vabbè poco importa comunque è davvero bravo questo ragazzino sì sì no è bravo fa piacere anche a me visto che l'ho fatto notare io insomma certo certo perciò questa è una vocazione quella del settore giovanile perché uno si trova meglio con i ragazzi con i giovani a me piace sì a me piace tantissimo fare il settore giovanile perché mi diverto a vedere i ragazzini a giocare è bello vedere i ragazzini a giocare è meglio che vedere i grandi ecco perché sono più certo un settore giovanile è quello della Vertovese che prima dell'avvento della nuova direzione della nuova appunto della nuova proprietà società si era un pochettino lasciato andare insomma dobbiamo dire forse perché il povero Antonio Maffei non poteva fare tutto da solo eccetera perché sappiamo che era rimasto soltanto lui e due o tre collaboratori però aveva ecco non aveva forse curato aveva curato di più la prima squadra che noi il settore giovanile che sappiamo essere l'infa vitale di una società no è vero è vero l'anno scorso eravamo riusciti a fare quattro squadre con ragazzini di buona qualità tant'è che un ragazzino del 2000 l'abbiamo portato all'Atalanta e altri due ragazzini alla Zanocene avevamo delle buone squadre poi con la storia che i Maffei si hanno mollato c'è stato un fuggifuggi generale siamo riusciti a fare ancora due squadre allievi e giovanissimi grazie anche alla collaborazione con Casnigo perché noi avevamo pochi ragazzi loro ne avevano pochi e abbiamo fatto due squadre assieme e sono saltate fuori anche due belle squadrette dai speriamo daranno soddisfazioni certo forse la mancanza di una Juniores lì dietro si farà sentire a lungo andare no secondo me no si fa sentire di più la mancanza degli aggiordienti ah secondo me perché con le regole che ci sono la Juniores serve serve a poco perché è più con le regole della promozione sono gli allievi che vanno in prima squadra quindi la Juniores secondo me serve a poco certo regole anche queste per le quali potremmo discutere è vero per carità ne vengano i giovani però insomma non bruciamoli perché poi si corre anche questo rischio poi non sei d'accordo? sono sempre dell'idea che i giovani hanno sempre giocato quelli bravi secondo me devono i giocatori che devono giocare a calcio sono quelli che hanno voglia che si impegnano e che sono bravi io non posso pretendere o costringere un giocatore che ha 35 36 37 40 45 perché c'è qualcuno che gioca ancora che ha voglia che si impegna che si allena che va letto presto la domenica o al sabato o al venerdì quello che è per far giocare perché sono obbligato a far giocare un ragazzino che magari non dico a certi livelli che magari al venerdì sera o al sabato sera va e si va al suo giro cioè non mi sembra una cosa giusta io ritengo che debbano giocare chi ha voglia chi si impegna chi è bravo regole da rivedere anche perché ripeto io forse parto dal presupposto che se mi metti un ragazzo dal 96 in promozione che per carità per solo perché c'è una regola da rispettare se questo non è non dico un fenomeno però uno che appena appena se la cava metti che tu devi metterlo per forza corre il rischio anche di bruciarlo hanno sempre giocato anche prima i giovani chi meritava hanno sempre giocato tutti i giovani io non lo so Giovanni ma quanti anni ha esordito anche lui i professionisti presto però ritengo Giovanni non lo so devo fare la domanda devo girarla Giovanni non lo so certamente ci arriveremo Pezzoli io credo che vedere nascere al proprio interno del settore giovanile due o tre di questi ragazzi e vederli proiettati per meriti in prima squadra credo che per un dirigente allenatore che dir si voglia sia soddisfazione maggiore è il massimo è vero perché si lavora per tanti anni per quello e vedere arrivare dei ragazzi in prima squadra per me è il massimo grazie Elio Pezzoli adesso andiamo con Giovanni Motta poi andremo alla pubblicità e ritorneremo ancora nella terza parte Giovanni anzitutto complimenti perché hai ritrovato ma è già il secondo giusto? la via del gol secondo? è il secondo eccomi no male ti ha aiutato un po' il portiere avversario che era un po' in giro per l'area ieri su quel tiro che gridava tu hai tirato giusto sul palo ma il portiere era un po' si vede che passava qualche bella ragazza lì sulla strada e stava guardando qualche ragazza però va bene l'importante speriamo che ne passino molte allora da qui alla fine del campionato le faremo passare tutte le domeniche avanti e indietro intanto buonasera Lorenzo certo al di là di questo allora dimmi per tu che arrivi da una realtà naturalmente molto più importante insomma una società professionistica perché quando sei in C1 C2 adesso si chiamano prima o seconda Lega Pro Calcalet io credo che sia ci si debba vestire forse i panni di quell'umiltà necessaria per dire sono arrivato qua e ho voglia comunque di dare il mio contributo ma quello sicuramente io posso comunque dire che anche quando militavo in squadre professionistiche lo spirito era sempre quello quindi non mi risulta difficile mettermi a disposizione dei miei compagni di squadra nemmeno qua quindi innanzitutto li ringrazio per come mi hanno accolto e approfitto in particolar modo per ringraziare una persona che mi ha permesso di tornare nelle valli bergamasche dopo tanto peregrinare questa persona il direttore Bortolotti che non solo mi ha permesso di tornare in una squadra qua nella nostra valle bergamasca ma mi ha pure trovato il lavoro e quindi con i tempi che corrono credo che la mia riconoscenza sia totale una terza cosa che vorrei dire è il ringraziamento ancora al direttore perché ha dato a tutti noi giocatori la possibilità di metterci in mostra fino a novembre quando comincerà il mercato perché poi ci ha detto che se le cose continuano così saremo siete tutti liberi e quindi ci ha permesso perlomeno ancora due mesi per dimostrare di poterci stare nella Vertovese assolutamente certo ma che sapore c'è Giovanni a giocare ancora nella tua terra? è un piacere immenso perché io andai via da Bergamo nel 2001 a vent'anni insomma a vent'anni e sono tornato quindi dopo dodici anni abbiamo scoperto la tua età se volevi tenere la segreta ormai abbiamo scoperto la tua età eh sì ormai la prima volta che veni da te era forse lontano ero ragazzino ero ragazzino e mi hai ritrovato con un po' di barba però però hai fatto una tua bella carriera insomma hai sempre giocato a certi livelli io lo sai che ti stimo perché oltre a giocare al calcio divertirti hai costruito il futuro hai studiato ti sei laureato in ingegneria e questo mi fa immensamente piacere e adesso è giusto che raccogli anche altri risultati io sono stato molto fortunato Lorenzo e devo ammettere questo al di là anche delle mie possibilità quindi ringrazio ancora chi mi ha dato la possibilità di essere ancora sul campo una battuta poi diamola lì nella regia per la pubblicità adesso devi essere e devi ringraziare Bortolotti perché ti ha voluto perché ti ha trovato il lavoro i tuoi genitori perché bene o male ti hanno aiutato fino a 30 e passa anni mi sa che devi giocare a 10 anni ancora a certi livelli hai dimenticato il presidente amabile Guerini e il mister che mi mette in campo nonostante la mia veneranda età insomma la lista si allunga meditiamo gente l'importante è che abbiano la convinzione di fare e recitare il proprio ruolo poi nessuno Pelè ce n'era soltanto uno poi è da discutere anche quello se è la più brava Maradona o Pelè o il Del Piero vedete voi ci vediamo fra poco ed eccoci qua per quest'ultima parte con i nostri amici dell'Averto Vese ancora con Giovanni Motta qualche battuta prima di concludere secondo te il potenziale maggiore di questa squadra Giovanni perché adesso al di là delle battute poi naturalmente il direttore sportivo il direttore generale cerca di caricarvi in un modo l'allenatore in un altro ma la consapevolezza della qualità della squadra l'avete voi i giocatori che scendete in campo secondo te c'è questa qualità la vedi nel suo insieme? Qualcosa sicuramente c'è però non è sufficiente il direttore ha parlato in questi termini per tutta la sera però apprendo una parentesi e chiudendola subito il direttore è una persona sincera e diretta e non ha tante perifrasi per dire le cose è una qualità che io apprezzo moltissimo e dobbiamo lavorare il mister è molto preparato non è piageria perché l'ho già detto che se vinciamo l'ultimo anno che faccio quindi se vinciamo è difficile che possa essere l'ultimo anno 33 anni Giovanni dai però il discorso è che abbiamo qualcosa di valido ma non è sufficiente per fare un campionato di tutto rispetto bisogna impegnarsi bisogna essere umili bisogna mettersi a disposizione qui come in qualsiasi altra categoria quindi secondo me qualche potenzialità c'è qualcosina si è visto secondo me domenica ma non dobbiamo dimenticarci che arriviamo da diverse partite giocate non bene e quindi insomma il pericolo che si possa fare un passo indietro c'è sempre di certo è che tutti i ragazzi vogliono farlo in avanti questo passo dubbiamente ti ringrazio Giovanni vuoi dare il microfono a Giorgio Giorgio Alberti il capitano della squadra l'uomo che l'anno scorso con quel splendido gol ha dato la promozione per la prima volta nei 92 anni di storia della Vertovese ha dato la promozione dalla prima al campionato di promozione non è un gioco di parole però come tu sai anche perché anche tu non sei più giovanissimo insomma non si vive di soli ricordi di allori e allora c'è un altro impegno un altro campionato tu hai già militato in questi campionati vedi la differenza fra la prima la promozione e così via c'è una differenza di gioco sostanziale? sicuramente come ogni categoria che fai superiore c'è sempre uno scalino in più però devo dire che dalla prima alla promozione non vedo questa grossa differenza come giocatore perché l'anno scorso ho incontrato giocatori importanti per la categoria e in promozione secondo me non c'è questa grossa differenza anche perché essendoci un giovane in più da dover schierare secondo me perde ancora un po' di qualità la categoria quindi non vedo questa grossissima differenza ecco anzi allora adesso mi devi svelare una cosa perché io sono sempre stato un tuo sostenitore in tutti nelle mie telecroniche forse perché tu corri 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 e io non ci riesco e l'anno scorso davvero entusiasmavi un po' tutti quest'anno queste tue corse sulla tua fascia sono un pochettino limitate dimmi se è perché devi più badare al difensore o se è un ordine dell'allenatore di stare nella tua metà campo no no non c'entra il mister poi giro il microfono lo diamo a Inverti dopo no purtroppo quest'anno siamo partiti veramente male come diceva prima il mister il direttore l'unica cosa che ci ha salvato finora sono i risultati che i punti perché abbiamo preso dieci punti in sei partite questa è l'unica cosa positiva perché il gioco purtroppo in tante partite c'è stato poco niente e facciamo ogni singola partita facciamo tanti errori che dopo in settimana si analizzano il martedì ne parliamo sempre però purtroppo come ogni martedì parliamo sempre degli stessi errori se non quelli quasi sempre gli stessi errori stiamo facendo fatica a trovare un po' non so se l'assetto è una questione di mentalità però stiamo facendo un po' fatica sotto tanti punti di vista si vede anche dai gol che abbiamo preso che abbiamo preso 13 gol in 16 partite che purtroppo c'è qualcosa che non va beh certo in 6 partite 13 gol ne avete fatti 13 però ne avete subiti 13 se fossero soltanto 6 quei 13 3 o 4 punti in più ci sarebbero sicuramente che sarebbe tutto dire vorrebbe dire essere lì ma vorrebbe dire aver accumulato anche la consapevolezza di avere una squadra forte in difesa e soprattutto capace di fermare gli avversari è bello però giocare innanzitutto tu me lo devi dire visto che calchi i campi su un campo che mai come quest'anno averto ve l'ho visto così bello in questo periodo siamo già a metà ottobre ma soprattutto davanti al pubblico come quello che c'era ieri 200 e passa persone persone illustri persone che qualche d'una arrivava da foresto sparso ma soprattutto persone dell'Interland di Vertova e anche della Val Gandino che vogliono vedere giocare e soprattutto sostenervi questo deve essere piacevole anche per voi sì sicuramente è una bella cosa vedere tanta gente venire a vederti e ancora più bello poter giocare su un campo così bello perché io in tanti anni ho giocato poche volte su campi così belli ecco forse quello di Pedrengo era ancora più bello se mi ricordo me ne vortolotti giusto quello lì era proprio non era male quello lì era il top però vedendo anche come era gli anni scorsi il campo di Vertova sicuramente ha fatto un passo importante questo vuol dire che anche sotto questo aspetto la nuova dirigenza ha lavorato davvero bene adesso giro questa domanda che ho fatto a Giorgio Alberti grazie intanto Giorgio a Alessandro Inberti aiutami a capire se è proprio una questione anche di ruoli oppure dici ad Alberti tu sai che lui spesso e sovente parte sulla sua fascia correva correva e ogni tanto ogni tanto adesso e questa allora probabilmente è anche una questione oltre che di testa anche dal punto di vista fisico e anche di preparazione in questa ultima gara già anche Alberti lo stesso Alberti penso anche che dal punto di vista fisico sia migliorato questo penso che se ne sia reso conto anche lui quello che anche lui diceva è che ogni martedì siamo lì a ricalcare sempre gli stessi errori e gli ho sempre detto a loro allora gli errori si fanno l'importante è non ripetere sempre lo stesso quest'anno facciamo a gara ogni giocatore fa un errore un errore per voglia domenica c'è qualche giocatore che fa il suo errore e ci costa purtroppo sempre il gol quindi siamo il miglior attacco ma siamo la peggior difesa quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va va bene comunque intanto le cose si equilibriano e i punti sono arrivati certo la dirigenza vuole è vero Gianandrea vuole sempre qualcosa in più ma al di là di quello vuole la consapevolezza che i ragazzi crescano perché se i ragazzi crescano e questo a loro favore insomma trovano la strada un pochettino sempre più spianata io ti devo dire una cosa i dirigenti sono contenti e li vedo felici e come diceva prima Alessandro sono proprio persone con cui mi sembra perfino strano tante volte dopo la partita che si perde o si vinca e si va a bere qualcosa o al campo diverto che è stato allestito anche un bar in un certo modo oppure si vanno nei bar dei nostri sponsor e queste persone sono sempre positive io tante volte mi domando io ho avuto dei presidenti che a lunedì mi chiamavano e mi tenevano al telefono tre ore per parlare della partita però vedo che c'è un entusiasmo veramente che ti lasciano cioè io ti dico ci lasciano lavorare pur sapendo le difficoltà pur sapendo tante cose non ci ha mai creato un problema e penso che questo oltre al loro impegno economico che penso che vada sempre sottolineato perché come dicevi tu prima è gente che il calcio l'ha sempre vissuto così ma non mai tolto forse il presidente è stato anche un ex giocatore dell'Averto Veve perciò è uno che ci tiene anche quando viene a vedere la partita lo vedi che è anche uno che ci mette passione però quello che stiamo facendo io non sono io penso di essere uno positivo però sono uno magari forse troppo pignolo su certe cose però io ho sempre visto che chi sta con me io voglio voglio qualcosa in più non voglio solo avere un giocatore che viene a giocare la domenica io voglio gente che viene al campo e quando facciamo due battute o che se magari durante la partita la domenica mi andano a quel paese a me va bene per me finisce tutto lì però da lì costruisci qualcosa io dico sempre se lo spogliatoio è uno spogliatoio dove c'è qualcosa dove c'è la discussione dove c'è qualcosa poi la domenica vedi una squadra importante sempre stata così del resto Alessandro lo spogliatoio è sempre stata l'arma in più tu che l'hai vissuto da giocatore quanto può contare questo amalgama più che mai soprattutto per una banda di ragazzi come può essere quella che guidi adesso penso che sia proprio il primo posto oltre alle qualità tecniche ma penso che prima di tutto ci sono le qualità umane e proprio le qualità del gruppo all'interno dello spogliatoio proprio se si crea proprio un gruppo compatto coeso che ci dà una mano in campo fuori i campionati di vinci solamente così al di là poi delle qualità che devono avere però si sono vinte anche i campionati contro squadre magari più blasonate con giocatori di qualità diverse che però probabilmente all'interno dello spogliatoio non avevano quella capacità di coesione di gruppo che serve per una squadra vincente ieri qui parlo della classifica la squadra che finora sembrava ammazzasse il campionato ne ha prese quattro e dunque è arrivata la prima batosta e sono ora poi la partita dovrebbe essere vissuta vista eccetera però mi sembra insomma che se questa era la squadra che doveva ammazzare il campionato è stata ridimensionata vedi qualche altra squadra hai visto tu calcola che hanno perso sì però sono sempre le primi a 15 punti quindi vuol dire che i punti li hanno fatti io non so le loro prospettive quali erano se erano quelle di vincere un campionato essendo una neopromossa penso che il loro obiettivo principale sia come il nostro quello della salvezza quindi hanno già fatto 15 punti quindi hanno già messo del fiero in cascina molto importante ci sta non so com'è andata la partita sinceramente può darsi che ci siano state alcuni problemi magari qualche spugno non lo so qualche altre squadre io ritengo questo campionato per quelle poche squadre che abbiamo visto non è sì un campionato molto equilibrato dove fino ad ora non c'è a parte il brembate fino a domenica scorsa una squadra che forse può ammazzare questo campionato bene questo è tutto dire soprattutto questo è per quanto riguarda il proseguo di questo campionato siamo solo alla sesta giornata dunque soltanto a un terzo anzi poco più di un terzo del girone di andata ma poi c'è tutto il ritorno e poi c'è le partite durante la brutta stagione sappiamo che qualcosa anche lì può cambiare se come si dice saranno rose fioriranno la vertovese secondo me ha tutti i numeri per diciamo recitare un ruolo non di primissimo piano ma un ruolo tranquillo lì in mezzo a una classifica che finora dimostra comunque di avere e questo è già importante io vi ringrazio per la vostra presenza vi auguro un buon lavoro naturalmente sia Gianandrea Bortolotti che lo vedo molto riflessivo molto riflessivo ma sono sicuro che poi appena fuori dalle telecamere si distenderà Alessandro Iberti Marco Signori Elio Pezzoli Giovanni Motta e Giorgio Alberti per la loro presenza ci vedremo per quanto ci riguarda fra 13 giorni quando seguiremo la partita in casa della vertovese la prossima in casa naturalmente grazie anche al nostro operatore e soprattutto al nostro regista che anche questa sera ci hanno assistito come loro sanno fare e a tutti voi per averci seguito ricordandovi che noi ci saremo anche lunedì prossimo grazie buona settimana a tutti a risentirci